Royal Caninow ha sviluppato una gamba di alimenti specifici per ogni razza tenendo conto delle caratteristiche di ciascuno di esse. In questo caso è un alimento specifico per cani piccoli e barboncini medi. Contiene oli di borragine ricchi di omega 6 per migliorare la morbidezza dei peli ricci e alleviare l'irritazione della pelle. Inoltre la crocchetta è una struttura che aiuta a ridurre la produzione di placca e la sua formula contiene antiossidanti che aiutano a mantenere la capacità cognitive dell'animale. Grazie a tutti.